Addio Cassonetti a Tortora parte la raccolta porta a porta. Poco meno di un mese dall'inizio del nuovo servizio ma il comune di Tortora ha già fissato un calendario per illustrare il nuovo sistema che interesserà lo smaltimento dei rifiuti del territorio. È un modo, dice l'assessore all'ambiente dell'ente tortorese Franco Chiappetta, per sensibilizzare la popolazione. Per questo motivo nei prossimi giorni distribuiremo dei kit per la raccolta differenziata con il materiale informativo in cui saranno illustrati nel dettaglio tutti i cambiamenti a cui andremo incontro. Il sistema del porta a porta è strettamente connesso alla raccolta differenziata ovvero lo smaltimento dei rifiuti solidi differenziati per tipologia. Parte attiva di questa nuova fase fa sapere l'amministratore la collaborazione con il mondo del distruzione. Già da alcune settimane ha spiegato con soddisfazione Franco Chiappetta sono stati avviati degli incontri nelle scuole cittadine, spiegando a studenti e scolari il senso e l'importanza della raccolta differenziata. La campagna informativa è dunque già iniziata da tempo e in maniera capillare si sta cercando di informare tutto il paese, ha poi commentato Chiappetta. Questo perché crediamo che delle buone percentuali di differenziata dipendano dalla significativa partecipazione della comunità locale. I nostri cittadini saranno coinvolti ancora di più in questo processo, ha spiegato l'assessore a ramo. Gli stessi infatti potranno conferire personalmente i rifiuti nella stazione ecologica di località Falconara. Sito quasi pronto per l'utilizzo, ha annunciato Chiappetta. La struttura è realtà conclusa, ha infine informato il delegato all'ambiente di via panoramica al porto. Manca soltanto l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dopodiché l'obiettivo di raggiungere il 60% di raccolta differenziata, penso di verrà realtà.